Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il prosciutto va alle stelle e tu ridi a crepa pelle, non ti pare tutta le giuglie. Grazie a tutti. Eccoci qua che dobbiamo raccontarci. Quindi queste cose, adesso siete contenti che andiamo a votare? Siete contenti che andiamo a votare? La tua dice, nel bar vicino a Pelemmo, l'hanno detto, che ci hanno promesso a noi mare e monte. Berlusconi ci ha promesso mare e monte, monte e muretta, a mare se ce l'ha, ah che ci siamo. E va bene, grazie. Ma allora dice, ma scusate, ma allora ragazzi sempre dobbiamo essere qua, sempre ci siamo a protestare e sempre a votare. Dice io farò e darò tutto quello che posso fare. Anche la mia ragazza mi ha detto, ma Maglio, ma tu divi per il pubblico, per il teatro, dai tutte le tue energie alla gente. Dice, ma io che posto ho nella tua vita? Che posto? Apri una fila che posso dare. E ora arrivo a Milano. Dice lei, e sei andato via, e ora arrivo a Milano. E il mio problema, perché la macchina, vedi che la vita, è perché hai anche Corona. E anche Corona, dice, incredibile. Corona che dice le battute. Dice, ma lei come ha fatto, Corona? Dice, io non stavo scappando. Non stavo scappando. Ma tu Corona non stavi scappando, signor. Dice, tu mi devi dire Corona, come fai a stare il giovedì in palestra e dopo quattro giorni a Milano ti sei trovato a Lisbonne. Tu come? Corona.